Siamo qui con un icono fashionista, Amber Le Bon. Ciao, Amber. Ciao. Come sei? Molto bene, grazie. Quale è un icono per te? Un icono del presento o del pasto? Per me guardo più al pasto. Guardo molti filmi vecchi. Sono in amico con Sophia Loren e Audrey Hepburn e questo tipo di film. Per me è il mio icono fashionista. Elegante, rilassato, ma ancora femminile. C'è qualcosa del tuo piacere? Sto in amico, è sparkly. Voglio venire a casa con me oggi. Può partire il mio occhio. Mi piace sparkles. Sono una magpie, quindi mi piace sparkly. E questo è il migliore di due. Si sembra che sei portato un grande grande neccolo. Quindi mi piace. Spero che ti piace Milano Fashion Week e Milano come una città glamorosa. Mi piace Milano. Penso che è incredibile. La atmosfera qui durante la Fashion Week è incredibile. Non c'è nulla in qualsiasi del mondo. C'è solo un buzz. Anche se non sei per le regioni fashioni ma il buzz di tutta la città è incredibile. Quindi mi piace venire qui durante la Fashion Week. Grazie. 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 .